Ciao a tutti, no contact con narcisisti e persone tossiche. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra abbonamenti base per partecipare alle live a vari livelli, abbonamento consulting per una consulenza telefonica. Con l'abbonamento consulting potrai interagire direttamente con me sviluppando nuove possibilità e riuscendo anche a ottenere quindi dei risultati mirati per la conquista delle persone che ti interessano o situazioni di questo genere. Ma abbonare se è facile basta andare nella home page, tastina abbonati che sta vicino alla tastina iscriviti e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema no contact con narcisisti e persone tossiche. Allora, premesso che i narcisisti, ho parlato tante volte dei narcisisti, le persone tossiche chi sono? Le persone tossiche sono persone, diciamo, negative per noi a vari livelli. Ci sono i narcisisti, ma ci sono anche persone ancora più tossiche dei narcisisti. Le persone più tossiche dei narcisisti sono quelle appartenenti alla famosa famigerata triade oscura, che raggruppa, diciamo, il peggio del peggio. Cioè raggruppa i narcisisti con i macchiavellici, le persone macchiavelliche, quelle che agiscono secondo il motto, infine, giustifichi i mezzi, e poi gli psicopatici, i folli, paranoici, insomma, persone estremamente negative. Quindi è importante per te, con tutte queste... E poi ci sono anche persone tossiche invece di... con una tossicità più bassa, diciamo, ovviamente. Questa tipologia di persone con tossicità più bassa sono, ad esempio, beh, si va da persone che hanno una visione della vita diversa dalla tua, quindi non c'è feeling, non c'è, diciamo, connessione, oppure persone che hanno anche un modo, diciamo, di ragionare diverso dal tuo. persone che non hanno una maturità emotiva, ad esempio mi vengono in mente i Peter Pan, ma anche per quanto riguarda le donne, le sirene, le gatte morte, per quanto riguarda gli uomini, i Peter Pan, i libertini, insomma, potrebbero essere persone tossiche, persone impegnate, persone sposate, insomma, che se tu vuoi la famiglia del murino bianco. Beh, quindi questo è un po' quello che devi portare avanti, insomma, se vuoi raggiungere i risultati che ti piacciono, insomma, nella tua vita, se vuoi ottenere dei risultati importanti. Quindi, con le persone tossiche bisogna effettuare il no contact e renderti conto, però, che tendenzialmente avranno delle risposte, soprattutto i narcisisti, ma anche le persone tossiche in generale, si comporteranno, quindi cercheranno, dopo il primo periodo di stupore, diciamo, passati normalmente appunto i primi 21 giorni, se il no contact fatto bene darà dei forti risultati anche con i narcisisti. Chi dice che con i narcisisti il no contact non funziona, non sa quello che dice, perché con i narcisisti il no contact attecchisce, e attecchisce di brutto anche. Perché? E anche con le persone tossiche, perché sono persone che non tollerano essere, come dire, messe da parte, e quindi, come dire, la sconfitta non gli va giù. Talvolta ci sono persone che anche arrivano al punto muoia Sansone con tutti i fili stai, speriamo di no, anche talvolta da un punto di vista poi di altra natura. Comunque, le persone, i narcisisti e le persone tossiche, cosa fanno? Come si comportano? Intanto, ovviamente, tu devi, da questi comportamenti, assolutamente riuscirai ad avere anche una riprova del fatto che hai a che fare con un narcisista. Prima se ne sta in silenzio assoluto, perché ovviamente vuole testare, vuole capire se veramente, come dire, tu hai preso le misure, hai capito con chi hai da fare, con chi c'è, diciamo. E quindi, se questo è vero, ovviamente non devi, come dire, se ne starà lì buono per capire se tu torni. Perché se torni, poi ti garantisco che farà di te polpette. Ti butterà nel tritacarne, praticamente. Dopodiché, che succede? Succede che la prima cosa che farà è ritornare a ciò che faceva quando aveva conosciuto, cioè probabilmente il no-bombing, il bombardamento d'amore, il tentativo di sedurre, il tentativo di ammagliare, il tentativo di riconquistarti. Pensa te, uno che se ne fotteva, uno che, cioè, dopo un po', diciamo, tornerà alle prime modalità, quelle che hanno funzionato, sperando che tu ricada nella rete, sperando che tu possa ricadere, diciamo così, nella trappola. E questo il narcisista lo mette in atto, lo mette in atto anche la persona tossica perché, non perché abbia studiato, tra virgolette, ma perché vuole capire se ha aggancio ancora. Quindi quello che farà è proprio cercare di risucchiarti, cercare di fare l'aspirapolvere, tra virgolette, no? Come viene chiamato l'uvering, l'aspirazione. Cioè cerca di risucchiarti e di riportarti a un coinvolgimento. Quindi diventando seduttivo, fondamentalmente. Aumenta le sue tattiche, ad esempio inizierà a chiamarti, cosa che magari prima non facevo, faceva poco quando voleva penalizzarti. Inizierà a mandare messaggi, a scriverti, a vederlo un po' ovunque, insomma, apparire, tac, dal nulla. Magari, che ne so, se sa dove va in palestra, si manifesta davanti alla palestra. O se sa che hai dei percorsi abituali, si manifesta in quei percorsi abituali. Insomma, lo ritroverai un po' dappertutto. E questo sempre nell'ottica della speranza, diciamo, che può avere di riconquistarti. Perché comunque perdere, diciamo, anche l'osso, il cane che perde l'osso, che non gli interessava più, ha voglia comunque di riconquistarlo. Sono dinamiche umane, e questo è niente di straordinario. Però diciamo che tu puoi cercare di rendertene conto per bloccare un po' questa situazione e far sì che non diventi una situazione estremamente nociva. Insomma, quindi cerca di evitarlo, praticamente. Cerca di evitare. Perché il mio consiglio è comunque di portare avanti il no contact. Se è un narcisista, sicuramente. Se non lo è una persona solo tossica, deve però presentarsi proprio cambiato, e deve avere le prove certe, prove provate, che questo cambiamento è avvenuto. Inizierà anche, diciamo, i narcisisti, soprattutto, a cercare di diffamarti con le scimmie volanti. Le persone tossiche di solito non usano scimmie volanti libertini, poi si sgancia più facilmente. Paradossalmente più tossica, più aumenta la tossicità della persona, più si appiccicano poi. E quindi, comunque, questa è una tattica che useranno poi in tanti, quello di mettere degli antagonisti, triangolare, e i narcisisti usciranno anche, utilizzeranno anche le scimmie volanti per denigrarti. Le scimmie volanti sono, come dire, gli schiavetti del narcisista, insomma. E talvolta si può anche manifestare rabbia, quindi il suggerimento che ti do è quello comunque di prendere le distanze, comunque di mantenere le distanze, perché, insomma, potresti anche trovare persone che poi manifestano rabbia. Se tu continuerai a persistere, diciamo così, nel non contatto, nel no contact, che è quello che ti consiglio io, ti renderai conto, avrai anche poi la prova provata del fatto che veramente ha a che fare con un narcisista, perché avviene il famoso o piacevole collasso narcisistico, cioè il narcisista non digerisce il fatto che tu hai un tracollo, tende ad andare in depressione se è narcisista. Se si tratta di un libertino, invece andrà a cercare subito un'altra offerta, fondamentalmente, ed è anche meglio, fondamentalmente, perché il libertino è tossico, ma relativamente. Quindi comunque, invece persone seriamente gelose, possessive, potrebbero diventare anche peggio del narcisista, potrebbero diventare appiccicose, quindi molto meglio prendere veramente le distanze, chiudere veramente ogni contatto, ogni rapporto. E invece il narcisista ha questo collasso narcisistico, quindi tende a sviluppare una depressione, tende ad entrare in crisi. Però, ripeto, questi sono problemi suoi, a te non deve fotterti assolutamente niente, perché non è che tu, anzi, tu devi mantenere, non devi, perché poi l'altra tattica che utilizzeranno quando sviluppano depressione, è quella di essere, come possiamo dire, è quella di essere un po', presentarsi un po' come poverini, come, insomma, come vittime fondamentalmente, quindi, fottitene, ovviamente, non devi stare lì a rimuginare per nulla. e dopo di che, se tutto si sblocca, anche il narcisista andrà a cercare su una nuova offerta narcisistica, andrà a cercare su un'offerta narcisistica altrove. Ecco, queste sono delle dinamiche che avvengono con i narcisisti e con le persone tossiche. Ovviamente, il no contact devi mantenerlo a livello totale, a livello globale e quando poi tornerà, perché torneranno, ripeto, io suggerisco di non continuare ad avere contatti. Se si trattava di un libertino, di una persona, magari così era, allora metti subito un vincolo. Se è una persona sposata, deve tornare avendo lasciato la moglie. Cioè, se c'è un atto che tu vuoi che faccia, tipo lasciare la moglie, lasciare la fidanzata o quell'altro, allora, quando avrai le prove certe che quest'atto è stato fatto, allora potrai dare il recesso. Perché dare il recesso prima, ebbè, non ti porterà da nessuna parte, anzi, ti porterà a non ottenere nessun risultato. Ti porterà a ottenere risultati negativi. Quindi va assolutamente evitato, insomma, perché a questo punto mettere i vincoli è fondamentale. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanella, mi raccomando, così riceverai la notifica di tutti i nuovi video. E ti ricordo di seguirmi anche sulla pagina Instagram, Massimo Tramasco ufficiale, e su TikTok. Inoltre, sul canale ti puoi abbonare, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, che sta vicino, o tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare vai con il computer. E ti ricordo che su questo canale sono disponibili diversi livelli di abbonamento, abbonamenti live a diversi livelli, abbonamenti base a diversi livelli per partecipare alle live, abbonamento consulting per una consulenza individuale. Con l'abbonamento consulting svilupperemo, elaboreremo una strategia che ti consentirà di raggiungere dei grandi risultati e conquistare la persona che ti interessa. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!